Siamo con Gianluca Mazzafoglia del Comitato Non Solo Cioga. Quest'anno la sagra è arrivata alla sua quarta edizione. Sì, buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori di Tele-G. È arrivata la quarta edizione che si terrà precisamente il 12 di agosto 2010 a Seidini, provincia di Sassari. Non è altro che la sagra delle lomache e delle melanzane con annessa all'interno della serata una sfilata di moda con abiti preparati per l'occasione. Ogni anno ha tema differente. Quest'anno verranno rappresentate le varie etnie del mondo. All'interno di questa serata ci saranno vari ospiti, spettacoli, animazione. Una bella serata. Lo scopo alla fine nostro del Comitato è quello di raccogliere i fondi da devolvere all'Associazione Oncologica Mariangela Pinna per la ricerca contro il cancro. L'Associazione, o meglio dire, il Comitato Non Solo Cioga Sedini organizza ogni anno tanti eventi per poi poter devolvere questi fondi all'Associazione. In ogni caso si fanno anche degli incontri con i vari paesi, con la gente, per informare, per sensibilizzare le persone alla prevenzione, che è la cosa più importante. L'aiuto che ci dà l'Associazione, rappresentata da Dottor Contu, è quello poi di fornirci i dettagli, insomma le spiegazioni di che cosa significa prevenzione e informazione. Quindi più partecipanti alla Sagra, più aiuti all'Associazione. Sicuramente, quindi rinnovo ancora l'invito per il 12 di agosto 2010, a partire dall'evento con la Sagra delle Lumache e delle Melanzane, ci sarà la sfilata di moda. Tanti ospiti rinomati, non sto a fare i nomi, comunque venite numerosi perché veramente ne vale la pena, è una bella serata di festa e poi ovviamente non solo cioga e non solo cioga.